Ben ritrovati al consueto spazio dedicato agli appuntamenti. Apriamo la nostra rubrica con un appuntamento teatrale. Martedì mattina alle ore 11 andrà in scena Binge Drinking Mondo Liquido, uno spettacolo che affronta il tema del disagio interiore, che spinge molti giovani a compiere scelte comportamentali estreme che li portano all'abuso in alcuni casi e alla dipendenza dall'alcol. Per informazioni chiamare il numero 035 23 50 39. Sempre martedì all'auditorio modernissimo di Nembro, a partire dalle 20 e 30, si terrà un incontro dal titolo Il Viandante e il Castello, con Emanuele Severino, filosofo docente all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e membro dell'Accademia dei Lincei. L'ingresso è libero. Giovedì 11 al Teatro Sociale in Città Alta andrà in scena Teta Tette, Passioni Stonate, uno spettacolo di Giovanna Gra, con Veronica Pivetti alla voce e Alessandro Nidi al pianoforte. Si tratta infatti di parole cantate e strofe parlate, al centro i guai del cuore. Lo spettacolo inizia alle ore 21, si consiglia la prenotazione. Sabato 13, gli appassionati di storia potranno trascorrere un pomeriggio alla scoperta del convento di San Francesco in Città Alta, con Claudio Visentin, direttore della Fondazione Bergamo nella Storia. La visita inizia alle ore 16, per informazioni consultare il sito www.bergamoestoria.it. Chiudiamo la nostra rubrica con un nuovo appuntamento musicale, per la rassegna Primavera Musicale della Val Gandino. Sempre sabato 13 alle ore 21 e con ingresso libero, salirà sul palco dell'auditorium Pezzoli di Leffe, Dirk Hamilton, il cantautore californiano noto per l'unicità dei suoi testi, in cui si incrociano visioni d'America, storie personali e tocchi poetici. Poesie ed energia si fondano nelle sonorità blues, rock e soul, creando uno stile originale difficile da classificare. Per informazioni chiamare il numero 035732005.